quarto episodio no non è vero mai terzo episodio va bene allora dove eravamo rimasti eravamo in questa è mattina è la domenica mattina mi sono svegliato un po così eravamo rimasti che eravamo nel rifugio sotterraneo ci siamo passati in mezzo al casino c'è stata l'esplosione la scena figa abbiamo fatto un po di combattimenti così contro robo e cazzi vari e siamo arrivati in questo rifugio sotterraneo con la gente che si è rifugiata dal casino della guerra e vediamo come va avanti vediamo come va avanti l'esplosione qui 1 1 ok è che io voglio scartare in volo di interdizione bersagli a seguire è ok top cat a gol porto e dicevo intanto che poi si fa cazzo qua vediamo la cosa che vedo la luce dietro un po' la cosfera un po' più interessante va bene andiamo va quando le fanno le cianci o ciancio le bande come tutto che strana luce la vedete anche voi? qui si stanno medicando ma non c'è nulla andiamo di qua che cazzo spettacolo va figata guardate che qua mi sa che giunti più erano eclips uomo alle ponder uffia la torre via 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 vai 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 aspetta che qua non è il maia cazzo le nemiche ma vogliamo ma do ma do eh ma mi stanno facendo malissimo ragazzi vediamo devo un attimo concentrare eh perchè mi ricordo mai la manca vero ok aia facciamo un po' più attività da sopra bello comunque in questa scena mi è piaciuta veramente un casino ok queste cine guardano da solo il gioco secondo me allora ci proteggiamo qua dietro per un cittino di merda la ecco fuori posizioni scarse cazzo e niente cosa c'è un mando mi sa cazzo sarebbe e si ma aspetta perchè mi stanno impurando mi sarebbe eh no aspetta un momento tra uno che devo recuperare un po' di vita perchè sennò è veramente un casino togliti vado a segnalare richiesta supporto bersaglio segnalato non so non so più segnalato perchè non vedevo niente però secondo me non mi sono vincito come nessuno vabbè ma guarda è stata bene seguo lui azione riuscita 3-1 vabbè 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 meno male che era tutto precongilato perchè ho puntato a caso e niente ma chi è che mi ha ucciso? vabbè tanto si vince da qua va bene mi sa che mi ha preso una bomba in cieno con le pezze ai 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 e vabbè ma vaffanculo però vuolta mo seguo lui vediamo eh non so n'altro di scena da portare quello ma niente quando ucc elop Image della prima dia noi seguo sto cambiando posso riusare lui? no vabbè ho trovato un'arma però è pieno, veramente pieno confondo sempre per un nemico cattivissimo io l'ho fatto alla cieca però ho una sensazione trovami nella posizione proprio sbagliata possibile allora io l'ho fatto qua ce ne sono e che dai le granate ok ragazzi però se mi venite qui magari mi date mano perchè qua la sensazione è abbastanza complicata ah ok ma dove? non ci sono nemici scusate qua sopra vai però qua non pulano certo fuoco 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 eh.. va be' ragazzi ci vediamo quando è supera ora si ma... riusciamo a andare avanti ragazzi ok check point, perfetto finalmente io qua ci rimango per fortuna che c'era il checkpoint ma forse no mamma mia allora facciamo attaccare qua va che bello centrati 3-1 ricevuto in uscita beh bella posizione da qua eh questo cazzo è pieno però eh però qua il cecchino un secondo qua il cecchino ci sta secondo me ci sta in giù un cecchino di merda eh ho avuto già le munizioni vabbè usiamo ancora la sconare lui va richiesta supporto bersaglio segnalato giudiamocelo oh 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 centrati 3-1 ricevuto in uscita dalla zona ok dai dai ce l'abbiamo fatta eh ce l'abbiamo fatta checkpoint siamo dentro vai anche un'altra granata lì ce l'abbiamo fatta vui 3-1 pronto a ricevere ordini vui 3-1 in attesa nel segnale 3-1 bersaglio indicato Ma no l'arma la tengo questa dai E' un bel raio questo E' un attimo Stai tranquillo Io rompo Che cattiveria Vai 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 I rallentatori sono un po' Carini da vedere ma Ok Penso io Minchia che textura A tutte le unità ripeto successo Via il cambio al robot e badi al prigioniero Sotto ufficiale Riattivi gli atis Lassù ci sono ancora delle navi nemiche Subito ammiraglio Le forze stato sono qua fuori Stanno creando una pampostra Ce l'abbiamo fatta ragazzi Vediamo come è messo il master Gli serve un medico Non mi serve Che si fra un po' ti servirà guarda Un tesserino da dipendente Ecco chi è Michael Aaron Page Settore ingegneria meccanica Due anni Un infiltrato del fronte Non è il mio nome Era quello di uno schifoso terrestre Come ti chiami? Ma spagli la faccia Questo stronzo Ma prendetelo anche a schiaffi però Un momento Marine Ho rincoglionito eh Io ve lo dico Ecco brava Sono morti troppi innocenti Combatteremo per loro Roger Potete procedere Andiamo Ma cazzo Una batosta ci stava Questo qua eh La tizia aveva le palle per farla? No eh Allora Diciamo che ho registrato pochissimo Perché devo fare un taglio lunghissimo Quindi Io mi farei un'altra missione Tutte le unità Ripeto Successo Via il cambio al robot E va via il prigioniero Sotto ufficiale Lassù ci sono ancora delle navi nemiche Subito ammiraglio Le forze Sato sono qua fuori Stanno creando un avamposto Bene Vediamo come è messo il muster Gli serve un medico Non mi serve Ho un tesserino da dipendente Ragazzi Ma è con la rompege Settore ingegneria Scusate eh Un infiltrato del fronte A tutte le unità Qui scar 1-1 Atis di nuovo in mano All'U-N-S-A Ripeto Atis sotto controllo Va bene Qui Ryder A me e Solter Servono dei mezzi Ricevuto 3-2 Vi scorderà in posizione Ricevuto Sono lui Sono altri rincoglioniti qua O sono amici No mi sa che sono amici Sono i nostri Ethan Ok Si era cagato sotto Ethan Bravo Ethan Dai andiamo Saliamo a bordo Reyes Ok Minchia ci fanno usare uno di Ma che figo Col cobra Col bravo Dove si sale Dove si sale Perché mi segna Ah di qua devo salire Ok Ok io vado con Keitan Andiamo Dai che figo No Come si usa Autopilota Ok Facciamoli neri Solter Che spettacolo A tutti i mezzi disponibili La Retribution Insegue ma perde terreno Dobbiamo lasciare l'atmosfera subito 1-2 ricevuto Ah quindi andiamo in the space Retribution qui Eclipse Vi seguiamo da dritta Pronti Scar Andiamo di sopra Premi V per avviare il jack-out Procedere Un maestro per decollare Allora Non ho fatto Da solo Allora 1-1 Accelerazione 1-2 Accelerazione Eh questa è veramente Uno spettacolo Questa è una novità Perché è il primo profinto Che fanno Il primo profinto Che hanno fatto Che vai nello spazio Quindi Tanta roba Tanta tanta roba Sì ma Quel rosso dietro lì Non è che mi piaceva 20 ore 10 ore 16 minuti Fuoco a volontà Lo vedi anche tu Reyes Affermati Sì Ecco che Diamoci dentro Allora 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 Vediamo come si Simpusa sta cosa Abbastanza semplice Sentirebbe F Madonna la F Madonna santa Io non sono al massimo Nei jump di volo Questo è molto Semplificato Però Allora Ok Adesso Non ho stesso Per agganciare Si allontana Cabo È morto Perfetto Non è complicato Però Diciamo Per cambiare Armi Vieni qua Dove scappi Bastardo Ok Sto capendo Un cazzo Ragazzi Ci riscaldano Un po' Armi Allora Ok No Contromisure Contromisure Cosa Contromisure No No È un po' C'è un casino Devo esser sincero C'è ci sono altri Salute della nave Dov'è Conna Un amico È morto Ok Mi sembrano i vecchi giochi Giochi spaziali Che facevano una volta Troppo figo eh Ci sta Bom Morto Occhio al fianco sinistro Mi fa un po' insieme la pista C'è gli occhi che si stanno un attimo Chintanando Dove ci sono? Non mi vedo gli altri ragazzi 1-1 1-1 Versaglio distrutto Ok Dove? Sato Fuoco sul cacciatorpediniere nemico Difesa aeree Eh la mamma non prese altro eh Ehm Ok Andiamo là No non mi piace starmi È lenta all'impossibile E' anche meglio questa direi Aspetta aspetta ma lontano Dai curati Curati nave del cazzo Posto? Ok Ok Dobbiamo usare l'arco ancora Però non ci siamo Già abbiamo pasta Esplosione galattica Questa è per intenditore Rota per la retribution Rientrare Ricevuto 3-4 in vietro 3-6 Roger Raggrupparsi Riformirsi E inseguire Vedo la retribution Dove dove? Dove sei retribution Aspetta che ti raggiungo retribution Dove cazzo sei? Dove minchia è? Eccola 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 Ma eccola Ah giuola Ok Sato che c'è un po' di rottami Torniamo sulla retribution Un po' di rottamare Sì 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 Rottami Rottami Ma c'è un po' di merda Qui ho delle letture anomale Idem Controllo pressione statica Maia Bestia Che anterraggio brutto Fuoco su quella superporta aerei Ma porca troia Aspetta ma Ma Mi sa che Roger Ethan a te i comandi Io sparo Agli ordini Ok Ma fai te Oddio Oddio Sì ma togliti Non posso spara Ma tua sorella Mi ha perso Io sparo Vabbè ragazzi Io Io sparo Non ci sto capendo niente Di più Vado a caso Fuoco sul cannone 1-2 Contro misure fuori Infatti Un po' di rottamare Versione Inversaio Non è ancora un collettivo Ma una bella Sì Ritribution Ritirata Ritirata Eh Mi sa di sì eh Mi sa che ci hanno Ci hanno Ritirato Annullare la collisione Eh Troppo caro Mi sa Vado 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 Qui retribution Abbiamo vittime a bordo A tutte le unità La retribution Ma ci stanno spaccando La faccia Ragazzi Concentrate in fondo Sella super porta aerei Eh Oh Bene Però ci stavamo Ritirando noi Perché adesso si ritirano loro A tutte le unità Il nemico si è ritirato Zona sicura Eh ma non mi piace Sta cosa Rientriamo Atterriamo sulla retribution Fai strada Ah ma perché C'è Una è andata contro Ricevuto Permesso accordato Pista 2 Lima Roger 2 Lima Arriviamo Aggancio in corso Ok Atterro E poi mi sa che Concludiamo l'episodio E' un'episodio E' un'episodio E' un'episodio E' un'episodio Tenente Reyes Ti raggiunga immediatamente Plancia e chiudo Hai sentito soldi Plancia e chiudo Sì Vabbè Ok Ok Adesso facciamo fare il caricaminggi qua Eh sì Capitano ovvio 6 Oddio Ma perché esplode Sempre al giunto Ma Non c'è un attimo di pace Vabbè che siamo in guerra Però Si tiri fuori da qui Ci provo uno due I cavi sono saltati Ok Il problema risolto Tenenti Bene Ok Ci sono signore Avaria la calotta Ok Non si apre Col piede di porco Molto futuristica Come cosa Devo essere sincero Sì ma ce la faccio Grazie Eh sì Chi è che si è lasciato andare Lei e Gibson Il controllore aere Ecco la retribuzione Con quel che resta Ok ragazzi Concludiamo la puntata qua Allora Bella La parte La parte in La parte nello spazio Bella eh Carina Ci sta Però forse secondo me È un po' troppo Come si dice Piena di cose Che si illuminano Esplosioni Cioè alla fine A un certo punto Non ci ho capito più niente Devo dire che preferisco Le parti di terra Al momento Però ci stanno Ti spezzano un'attimo l'azione Cioè È figo Cioè Ci sta Ci sta Ci vediamo la prossima Al prossimo episodio Grazie a tutti Ciao 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 Grazie.